Era il grande atteso da tutti, organizzatori, autorità e pubblico, ma alla fine non si è presentato. Ha lasciato la mano in bocca l'assenza del maestro Riccardo Muti in questi giorni in tour in Puglia, alla cerimonia di consegna dei premi dell'Associazione Pugliesi nel mondo nel teatro Traetta di Bitonto, dove era ospite d'onore. Un forfè che non è stato isolato anche a causa dei disagi causati dallo sciopero generale, che ha rallentato i trasporti su tutto il territorio, secondo gli organizzatori. Annualmente ormai questo è un premio che sta prendendo piedi e devo dire anche grazie alla disponibilità dei nostri corregionali, illustri corregionali che ci stanno dando questa soddisfazione ad essere presenti con noi. Oggi è stata una giornata particolare, ahimè, i mezzi pubblici, questo sciopero generale, l'Italia ha parallelizzato anche una buona parte dei nostri premiati. Buon successo per la manifestazione che ha premiato molti pugliesi che in giro per il mondo hanno portato l'ostro alla regione. Tra le personalità insignite del premio anche il cantante Tony Sant'Agata, orgoglioso del riconoscimento appena ritirato. Ho vinto canzonissima, ho avuto l'anno scorso tre dischi di Platone e uno d'oro ancora per le mie canzoni, ma poi alla fine la cosa che mi interessa di più è questa. Mi ero messo in ragazzino più di 60 anni fa di portare tanta visibilità allo spettacolo della mia regione, la Puglia, che amo da morire. E piano piano, con molti sacrifici, ci sono riuscito. Oggi ci sono tantissimi cabarettisti, tantissimi cantanti che usano il nostro linguaggio. Quando ho incominciato io non c'era nessuno, anzi molti si nascondevano. A questo punto avere un premio dai pugliesi e dai pugliesi nel mondo per me è una grande soddisfazione. Averlo a Bitonto molto di più.